Sono Remo Gasperi e lavoro in IREN Smart Solutions da due anni e mezzo. Noi ci occupiamo di riqualificazione energetica per gli edifici pubblici e privati. Lavoriamo sull'imvolucro opaco degli edifici, quindi installiamo il cappotto termico, sostituiamo i serramenti e lavoriamo anche sugli impianti, sostituendo le caldaie, le pompe di calore e in alcuni casi installiamo anche gli impianti fotovoltaici. Tre aggettivi che rappresentano me e il mio lavoro sono il rispetto per l'ambiente, l'appartenenza alla comunità e la volontà di lasciare un mondo migliore. Io sono laureato in architettura, ho studiato al Politecnico di Torino e mi sono specializzato in sostenibilità ambientale. Quindi il mio lavoro è calzante con quello che ho studiato, sento che mi appartiene. Quello che mi piace molto del mio lavoro è che lavoriamo non solo per il nostro committente, ma per tutta la comunità e il nostro territorio. Riqualificando energeticamente gli edifici, miglioriamo anche l'impatto sull'ambiente e riduciamo l'emissione dei gas inquinanti. Con i miei colleghi ci troviamo molto bene, si è creato un bel ambiente, spesso scherziamo insieme, anche nei momenti di prossimità dei collaudi, quando si sommano molte scadenze, alla fine riusciamo sempre a rispettarle tutte. Alla fine del cantiere non abbiamo solo migliorato l'aspetto estetico dell'edificio, ma abbiamo migliorato anche la qualità di vita delle persone che ci abitano. Quello che mi rende orgoglioso di far parte del gruppo IREN è il senso di comunità e di appartenenza che abbiamo sviluppato non solo con il nostro ufficio, ma anche con i colleghi degli altri territori. Devo dire che in questi due anni e mezzo che sono in IREN, non c'è mai stato un giorno uguale all'altro. Ho imparato un sacco di cose diverse, ho lavorato in vari settori, dall'edilizia all'impiantistica, ho migliorato molto le mie professionalità, le mie competenze.